Simona non ne posso più della dieta, basta, basta, voglio vivere una vita sana, non voglio più stare a dieta perennemente. Se avessi messo da parte un euro, ma anche 50 centesimi per ogni volta che mi sono sentita dire questa frase, come naturopata nei miei 25 anni di professione, adesso non avrei più bisogno di lavorare. E invece cosa ho fatto? Ho creato la masterclass di immagrire in salute e senza dieta. Un percorso di consapevolezza che non riguarda solo come mangiare bene e di gusto per dimagrire, ma anche come vivere uno stile di vita piacevole, appagante, sano, che ti riempie di energia positiva. Ecco cosa dice chi ha concluso questo percorso. È stata un'esperienza completa, proprio quello che desideravo. Un modo di pensare e vivere la vita a 360 gradi. Ora ho tanti strumenti e non li mollo, voglio continuare a vivere così e stare bene. Francesca. Eh sì, lei ha ragione. E si è anche divertita, per questo vuole continuare con questo stile di vita. Perché se fai le cose senza piacere, poi le molli, come la dieta. Se invece ti piacciono e ti divertono, poi le mantieni, anzi le usi spesso, spessissimo, senza sforzo. E infatti quando ci colleghiamo per fare questo percorso della masterclass, parliamo di tutto, scherziamo, prendiamo le cose con ironia, ci facciamo anche quattro risate e sdrammatizziamo tutto come noi donne sappiamo fare. E poi è anche bello perché chiacchieriamo tra di noi, ci diamo forza, ci confrontiamo, ci sosteniamo a vicenda. E poi ci guardiamo l'un l'altra e diciamo, beh, non sono poi così male, perché siamo tutte sulla stessa barca e ridimensioniamo i nostri problemi. E soprattutto entriamo insieme nel pozzo dei desideri dove sono custodite tutte le mie risposte, quelle che cercate. Perché in più di 25 anni di studio, di approfondimento, di ricerca, ho messo insieme un archivio di segreti, consigli, soluzioni che danno risposte a tutte le esigenze. Solo per chi mi conosce e mi segue da anni, in anteprima ho deciso di realizzare un video training gratuito, dedicato a tutte voi che volete ritrovare voi stesse e il vostro peso ideale. Questo speciale video training sulla mia masterclass di magrire in salute e senza dieta sarà disponibile solo fino a venerdì 4 marzo. Iscrivendoti adesso al link che trovi qui sotto, potrai accedere al video training gratuitamente. Potrai vedere le video testimonianze entusiasmanti di alcune partecipanti e scoprire i bonus che ho preparato per te. E anche un dono speciale molto prezioso. Sono sicura che troverai tante informazioni nuove e interessanti e una bella sorpresa alla fine che ti farà piacere. Iscriviti subito dal link esclusivo che trovi in primo commento su Facebook oppure in descrizione su YouTube. Attenzione, ciò che presenterò in questo video training è un metodo che ha un valore inestimabile e mettere in pratica anche solo il 20% di quello che ti dirò potrà cambiare per sempre la tua vita. Per questo lotterò online solo per pochi giorni a partire da oggi e non un giorno di più. Clicca qui e iscriviti subito al video training della Masterclass Dimagrire in salute e senza dieta. Bene, adesso clicca il link nel video qui sotto o qui sopra o di fianco e accedi a tutte le informazioni.